Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Nella notte scorsa, tre giovani hanno perso la vita in un drammatico incidente nel veneziano. Attorno alle 3.35, un'auto è uscita di strada, sprofondando nel fiume Lemene. Nonostante gli sforzi dei sommozzatori dei pompieri di Vicenza, le vittime sono rimaste intrappolate all'interno dell'auto, i cui sportelli erano chiusi. Solo con l'intervento di un autogru è stato possibile estrarre i corpi senza vita. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, le vittime sono state identificate come alti noti, 22 anni, egli 10, 20 anni, entrambi di origine kosovara, e Giulia Di Tiglio, 21 anni, italiana. Si indaga sulla possibilità che abbiano tentato di rompere il vetro, evidenziato dal finestrino rotto, per uscire dall'auto. L'incidente, che ha coinvolto una BMW berlina, è avvenuto a Borgo Sant'Agnese, vicino a Portogruaro. Le prime indagini suggeriscono che l'auto procedesse a velocità sostenuta, sbandando prima di un ponte e finendo nel canale, rompendo la recinzione di un locale nelle vicinanze. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Portogruaro, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato la tragedia, affermando, il Veneto piange altre giovani vittime della strada, una tragedia senza fine, che richiede un esame profondo su come evitarla. In questo momento, il mio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che le hanno conosciute. Dobbiamo continuare a cercare forme di prevenzione più efficaci per guardare con maggiore sicurezza sulle nostre strade.